buongiorno a tutti benvenuti ben trovati eh conferenza stampa della Cica Nueva opera prima di eh Michela Gonzalo film presentato in concorso al Torino Film Festival numero trentanove eh do il benvenuto a Michela Gonzalo benvenuta alla nostra traduttrice preziosissima che ci accompagnerà e poi al mio come si dice partner in crime Federico Bernocchi che ritrovo dopo ci ritroviamo insieme dopo un anno passato online ricordo che eh ci sono eh siamo in collegamento anche su Zoom per cui i giornalisti che sono in collegamento possono poi intervenire facendo delle domande che verranno raccolte e eh e poi insomma verranno eh da noi eh fatte alla alla regista benissimo entriamo come si dice in media stress allora questo è un film eh che eh come abbiamo visto è la storia di una giovane donna e della sua crescita umana eh di una progressiva presa di coscienza sia come donna che come lavoratrice io eh personalmente sono rimasta molto colpita da come ehm il film riesca a raccontare l'uscita eh da una solitudine proprio eh da un da una dimensione di individualismo attraverso l'esperienza della fabbrica a questo proposito mi sono venute in mente le parole di un poeta eh minatore un poeta minatore sardo italiano Manlio Massole che diceva sono entrato in miniera che ero io sono uscito che eravamo noi ecco questa mi sembra una frase molto calzante anche per 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 il tuo film Michela ehm perché è un film che ha un forte valore politico sei d'accordo? Cosa ne pensi? È un punto di partenza? Un punto d' partenza? È un punto di partida per il personaggio molto importante creiamo che la pellicola comienza dove termina su su persona comienza in questo luogo. È un punto di partenza molto importante perché in realtà il film ha inizio proprio quando la sua personalità diciamo quando il suo essere diventa si sviluppa e diventa va in empatia con gli altri. Sì ecco ci racconti come hai sviluppato proprio tu sei stata anche sceneggiatrice regista di questo film proprio come hai sviluppato questo personaggio in fase di scrittura. Eh quando cominciamo a scrivere la con Lucía Tebaldi e la guionista eh sempre tuvimos en mente para crear il personaggio e darle algo che abbiamo e algo che non abbiamo per poter accompagnarlo in il recorrivo della pellicola. Quindi queriamo darle algo per che un deseo profondo per che lei ottenga. Su deseo profondo in questo caso è essere parte del 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 mondo. Beh quando abbiamo incominciato a creare il personaggio a livello di sceneggiature insieme alla sceneggiatrice di Fiat Ebaldi e quello che abbiamo fatto abbiamo cercato di dare a questo per creare questo personaggio dando questo personaggio qualcosa che in realtà era già parte del personaggio e parte di noi è qualcosa che invece non c'era ancora e instillare in questo personaggio soprattutto quello che è il punto di partenza questo desiderio profondo creare questo desiderio profondo qualcosa che non c'era desiderio e che doveva quindi svilupparsi desiderio profondo di appartenenza al mondo. Eh ci sono delle domande dal pubblico domande allora andiamo avanti con la nostra conversazione ecco ehm un'altra cosa che colpisce è la bravura anche della dell'attrice della della protagonista eh come hai scelto la tua attrice e soprattutto come le hai raccontato che eh sarebbe dovuto essere questo film come avete lavorato? quando stavamo nel processo di buscarla a la attrice al personaggio principale lo che inicialmente buscabamo era alguien che che tuviese esa sensazione un po' animal eh in sua persona e che che tuviese esa necessità di di andare a buscar qualcosa nel mondo come qualcosa di molto di sovravivenci 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 e e sovravivenci sovravivenci lo che tratavo è di trovare a qualcuno con cui io potesse parlare di certi temi sociali e alguien che si empatisce realmente con eso y alguien che tenga a disposizione para trabajar con la cámara y y correr correr en la película todo el tiempo e quando eh stavamo cercando il personaggio l'attrice insomma per il personaggio per la protagonista eh lo che volevamo l'idea che avevamo in testa era quella di trovare un qualcuno che potesse dare questo aspetto che avesse già in sé quindi potesse attribuirlo al personaggio questo aspetto questa specie di lato eh che non appartiene al mondo dell'essere umano ma al mondo animale un qualcosa di animalesco in senso positivo nel senso quel qualcosa che ti spinge a a fare cose a cercare cose che ti permettono di sopravvivere nel mondo quindi che abbia che possa far passesse far ricorso ecco di quelle che sono le doti del del che portano alla sopravvivenza e poi perché questo avrebbe permesso poi di fare quello che interessava anche a me cioè di approcciare dei temi di valenza sociale in modo tale che potessimo portare questo personaggio a mostrare il momento in cui entra in empatia crea questo si crea questa empatia che prima non c'era che ha permesso poi di essere seguito dalla macchina da presa durante tutta la eh il girato eh tra l'altro la protagonista è Ximena però l'altra l'altra protagonista è la fabbrica eh in una recente intervista tu hai hai detto non c'è la fabbrica senza Ximena non c'è Ximena senza la fabbrica ci puoi spiegare meglio questa tua affermazione come l'una ha influenzato l'altra la fabbrica è un riflesso della sua necessità interna e della sua luce contro un certo individualismo quindi la fabbrica e il collettivo all'interno si progetta come lo che sta crescendo dentro al centro social e la fabbrica è quella che l'immagine proprio di quello che sono i desideri interni del desiderio interno della protagonista di eh lottare insomma contro l'individualismo contro quello che in realtà è un qualcosa che non porta all'empatia è un qualcosa che ehm è la rappresentazione anche il 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 gruppo di personaggi, i suoi colleghi, il collettivo e la rappresentazione di quello che è l'opposto dell'individualismo cioè l'empatia e il fatto di appartenere al mondo. Bene senti e tra l'altro mi veniva in mente mentre parlavi ehm ci sono molti film che hanno raccontato la fabbrica no? Da Ken Loach a Loren Cantè. Quali sono stati i tuoi modelli? Io credo che il modello principale è la mia famiglia. Mi modello principale di cinema è molto latinoamericano però se devo nombrare europeo direi Loren Cantè e Dardenne e Dardenne però soprattutto mi madre e mio padre sono un gran modello di raccontare storie perché mio padre lavorava in una fabbrica e mia madre è una maestra jardinera. Quindi ella racconta molte storie e mio padre lavorava in una fabbrica. e quindi come se mi armava una idea in la cabeza che poi mi portava immagini. in realtà io ho visto tantissimo cinema latinoamericano ovviamente che è stato che mi ha influenzato anche molto cinema ehm scusate europeo che mi piace moltissimo tipo ci sono moltissimi registi tipo i fratelli Dardenne che mi hanno diciamo così influenzata ma la vera influenza basilare è quella partita dalla mia famiglia mio padre e mia madre appartengono a questa parte del mondo mio papà ha mio papà lavorato come operaio in fabbrica e la mia madre e quindi ha eh diciamo lavorato nell'ambito del giardinaggio ecco e quindi e e sono persone che è partita da loro dalle loro professioni dai loro racconti che ho sempre senti di fabbrica e così via di comunità di lavoro operaio diciamo così che mi sono sempre risuonati in testa fin da piccolo e che mi hanno portato avere quest'idea di lavorare a questo aspetto della società sì infatti il tuo un film di finzione ma eh il racconto in cui il racconto della realtà e l'adesione alla realtà sono molto forti eh in certi casi sembra quasi un documentario anche questo tuo stare con la camera addosso alla al personaggio ehm io credo che possa essere cioè non so come la pensi ma un ulteriore elemento di rottura questo film tra eh del del muro diciamo tra il cinema di finzione e il cinema documentario quando fiume a filmare il filmo eh eh e nel processo di investigazione che durò molti anni io in contesto questa fabbrica con le persone che lavorano in la non sono attori, sono persone di questa fabbrica che realmente la prendono e ci hanno mostrato come fu il processo, quindi potrei dire che è una una ficzione del documento con le persone reali di questa fabbrica, sono e quando facevamo le ricerche per questo film che sono durati parecchi anni a un certo punto ho trovato questa fabbrica che è proprio quella del film e con queste persone che lavorano nel film e nella fabbrica ma che nella realtà erano veramente dipendenti di questa fabbrica, non sono attori e attrici, sono effettivamente operai di questa fabbrica, gli operai della fabbrica e hanno effettivamente occupato diciamo così la fabbrica nel modo in cui si vede, ci hanno raccontato tutto anche come è avvenuto questo evento, quindi si potrebbe dire che il film può rappresentare una specie di messa in scena finzione di quella che è una realtà, di una documentata realtà e quindi diventa in questo modo una rappresentazione fictizia di quella che è un qualcosa che effettivamente è accaduto con le persone che erano presenti al momento dell'evento. Certo, domande? Continuiamo la nostra ricerca di una domanda qua. Allora io volevo prima di tutto fare i complimenti a Micaela perché è il primo film che presentiamo in concorso quindi insomma per noi è una bella soddisfazione. Lei come vedete è giovanissima, ha fatto un film ottimo, lei arriva da un'esperienza di un cortometraggio ma finalmente insomma ha fatto il primo lungo ed è per noi un onore averlo in concorso in questa edizione. La cosa che a me maggiormente ha colpito del film, oltre a quello che avete detto fino adesso e devo dire che è molto interessante anche questo diciamo cortocircuito, finzione, realtà che spiegava adesso Micaela. Però è l'aspetto diciamo quasi di solitudine che i Mena provano è il momento in cui arriva nella fabbrica, il momento in cui si riavvicina all'affetto fraterno. I due fratelli quando la politica entra in campo si trovano su due fronti differenti. Io non vorrei farla più grande di quella che è o fare dei discorsi troppo profondi o politicizzati però mi sembra che abbia a che fare molto con quella che è la situazione politica anche diciamo militante del nostro ultimo periodo in cui non esiste quasi più una situazione diciamo collettiva, i movimenti e tutta la fine che hanno fatto per quello che è successo, ma che appunto la politica anche vissuta quotidianamente in una fabbrica porti poi alla solitudine. E questo devo dire che è l'aspetto che più mi ha colpito e volevo sapere se se Micaela è d'accordo se ha una riflessione su questo. Grazie. Grazie mille per la apreciazione sull'attività. È certo che c'è qualcosa in le fabbrici che è negativo e è il tipo di lavoro può tornare un problema fisicamente per le persone, però il lavoro non è solo il lavoro in si, ma... C'è una frase in Argentina che è il lavoro dignifica, ma non è per il lavoro, ma per tutto quello che si construisce, questo colectivo, al reddere di un posto lavorale. e questo oggi sta in peligro in tutto il mondo, tutta la costruzione colectiva per la quantità di promessi individuali che ci hanno fatto, e soprattutto nel lavoro. C'è qualcosa di positivo in teletrabajare, però anche in queste applicazioni come Uber o Delivery, però che ci siano di aliarci con un compagno, di poter incontrarci per reclamare o per armare un colectivo. Questo è un problema molto grave nel mondo, che ogni volta siamo più isolati e separati, con una falsa sensazione di che ogni volta siamo più vicino per le sociali, però per i gremi e per la costruzione collettiva delle idee è un apocalipsis. In realtà, prima di tutto, grazie per l'apprezzamento e complimenti rivolti al film e per averlo al festival. In realtà, il lavoro in fabbrica, cioè la fabbrica può avere aspetti positivi e aspetti negativi, soprattutto il lavoro in fabbrica di per sé, perché ha anche un impatto negativo dal punto di vista fisico, per esempio il lavoro, la ripetitività del lavoro stesso sulle persone, ma vi è anche la possibilità, diciamo, dato il contesto, dato la tipologia di rapporti che si possono creare, vi è anche la possibilità, diciamo, di creare quello che è un contesto più positivo e comunitario, chiamiamolo così. Al contrario di quello che succede, invece, certo c'è un certo individualismo, isolamento e separazione a livello internazionale e mondiale nell'ambito del lavoro, soprattutto non tanto riferito alla fabbrica di per sé, ma allo sviluppo di quelle realtà che vi sono ora, che ci sono queste cose con le applicazioni tipo Uber, delivery e così via, che portano a una situazione diversa di effettivamente lontananza, distanza, isolamento dei singoli che non possono, al contrario di quello che può succedere nella fabbrica, ritrovarsi assieme per protestare o cose del genere, per creare quindi quello che può essere una, arrivare alla costruzione, diciamo, di un'idea comune e collettiva e tutte queste realtà che vi sono in realtà sono quelle che catastroficamente, disastrosamente portano all'isolamento, alla solitudine, proprio perché portano a collarsi una specie di falsa sensazione di socialità, diciamo così. E lo stesso credo che passa con il cinema, perché vediamo film in nostra casa e questo sta genial, però lo vero del cinema è questa construzione in conjunto, per lo qual grazie molto a Torino che stai dando questa posibilità di progetare una filmica politica e che si vedi in una sala con gente e non isolati, cada uno in sua casa, e la possibilità di poter parlare di questo, anche per dire che questa film è una basura, ma questo lo costruisce, lo che non lo costruisce è che si vedi in una sala separata. E ancora aggiungerei, e questo è lo specchio di quello che succede anche nell'ambito di quello del cinema, insomma, della visione del cinema, delle pellicoli. Il fatto che adesso si possono vedere tanti film a casa, da sole e così via, bellissimo per carità, però elimina quello che è il fattore sine qua non di quella che è la costruzione, diciamo, dell'idea comune, della comunità, insomma, il fatto di, quello che ringrazio il festival proprio per aver dato la possibilità di accedere nuovamente a questa realtà, il fatto di vedere un film insieme, presenti in una stanza, in un ambito, che ti permette di non essere isolato, ti permette di scambiare delle idee, ti permette di, anche fosse di dire, questo film è immondizia, però è questo scambio fisico, diciamo così, di idee che permette, non l'isolamento e il fatto di usufruirne separatamente, che permette la costruzione poi di comunità, di un'idea comunitaria, di un pensiero. Sì, abbiamo tempo ancora una domanda, ricordo sempre se avete domande alzate la mano, se ci sono domande aspettiamo sempre le domande su Zoom, allora no, io ecco avrei ancora una cosa da chiederti rispetto alla presenza dell'Argentina in questo film, perché nel film l'attualità, la realtà emerge in maniera un po' come un fiume carsico, nei vari momenti in cui sentiamo la TV, in cui sentiamo la radio, in sottofondo, i telegiornali, ecco, questa importanza dei media è qualcosa che era presente da subito nella tua idea del film o è qualcosa che è arrivato a strada facendo. La prima cosa era visibilizzare un conflitto che succede, non è un tema di agenda, i sono stati più difficili, ma noi vogliamo che più visibilizzano i conflitti sociali e i conflitti di despido, che si parlano molto poco, ma non è solo l'Argentina, è in tutta l'America Latina che sta soffrendo moltissimo desempleo per, lamentablemente, le politiche neoliberali dei governi che stanno in questo momento in America Latina. È molto grave e sì, sempre è stato come obiettivo mostrare questa realtà. Fin dall'inizio, sì, il nostro obiettivo è sempre stato mostrare quella che è la realtà, non soltanto argentina, ma dell'intero continente latinoamericano. Nel senso che la necessità era quella di rendere visibile, attraverso i media appunto, attraverso i media, rendere visibile quello che il conflitto sociale, le proteste operai, non farne un protagonista vero proprio nel senso, ma assolutamente fare in modo che se ne parlasse e mostrare, perché se ne parla poco nella realtà dei fatti, e mostrare qual è la situazione terribile di tutto il paese dell'America Latina, l'elevatissima percentuale di disoccupazione e così via, il tutto dovuto a quello che è la politica neoliberalista dei governi attualmente presenti in America Latina. Eh bene, allora eh in chiusura farei un'ultima domanda, sempre se non ci sono domande dal pubblico, niente. Allora ehm ecco io chiuderei questa conferenza stampa eh chiedendoti come la cica nuova eh della del tuo film può diventare un modello per le nuove generazioni. Eh che la luce sia in conjunto, sempre. Il pubblico, le persone lavorano in conjunto, eso sempre va a essere una risposta, tanto nel cinema come nella fábrica come in una plazza, hai che juntarsi, non hai che virtualizzarsi tanto. attraverso quello che la lotta comune, deve lottare tutti insieme, il lavoro fatto insieme e non è soltanto una questione di cinema o di realtà ma è sempre proprio la comunità e la forza e quindi è questo il modo. grazie. Grazie. Grazie Michela per il film così importante, così intenso e ricco che ci ha ci ha dato tanti spunti di riflessione. Ti ringraziamo per noi è veramente come diceva Federico un onore averlo in concorso e ti ringraziamo molto per per queste tue parole. e grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie.